Siamo sempre live in diretta dal punto di storia di Cortiabona con Giulia Saggin, prima donna, un gran bel sorriso, andiamo senza rompere troppo le scatole con la prima donna, l'ammirazione, lo sguardo ammirato di chi sta lottando per la 90. Allora Giulia Bessin qui, benissimo, brillante protagonista. È bellissimo il percorso, è stupendo, sono già stanca, non metto, sono onesta, però è bello, bello, si fa. Accoglienza eccezionale, una partenza, un giornata... Sono stupendi, sono tutti stupendi. Ecco, dopo 18 chilometri cos'è che vuole una donna quando arriva al primo ristoro? Per ora acqua, se non essere semplice, poi vediamo. Quindi niente minestra, niente pasta, più in là? Più in là, più in là, sì, anzi una fettina di torta perché sono golosa. Quindi l'assaggine è golosa, aggiungiamo questo, lasciamo tranquilla, prima donna, viaggio sulla ventesima piazza, ecco, noi tra poco andremo verso il Prisigare, quindi cambieremo zona, la damella è anche questa, andiamo nel dietro le quinte, come detto l'assaggine, prima donna, al maschile tutti assieme, ma chiudiamo con un primo piano, sui giganti della fatica come Michele, Mangiani, eccolo qua, quasi in fondo ma va benissimo così. In fondo dove? In fondo alla truppa. Ah ok, sì, con calma ci prendiamo i nostri spazi, ammiriamo il paesaggio che è stupendo, quindi... Ne vale la pena? Vale tantissimo, bellissimo, fantastico. Avanti così con questo sorriso spot della damella, ci vediamo più tardi.